Tutta la vaccinazione AstraZeneca è stata sospesa. Questo è un colpo duro alla campagna vaccinale e a tutti i programmi che erano stati organizzati. La doccia fredda arriva a metà pomeriggio. L'agenzia italiana del farmaco AIFA ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale, in attesa dei pronunciamenti dell'EMA. La decisione è stata assunta dopo un colloquio tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro della Salute Speranza che aveva parlato con i suoi omologhi di Germania, Francia e Spagna. E subito, in osservanza a quanto disposto dall'AIFA, anche in Friuli Venezia Giulia le vaccinazioni con AstraZeneca sono state momentaneamente sospese. Anche il prosieguo della campagna vaccinale a partire dalla fascia d'età tra i 75 e i 79 anni, del quale era stata annunciata la partenza questa settimana, e dunque sospesa momentaneamente, dal momento che prevedeva proprio l'utilizzo di AstraZeneca. La previsione delle dosi era una previsione importante. Noi avevamo stabilito di procedere con l'apertura delle agende per la categoria da 79 a 75 anni. E' evidente che a questo punto dobbiamo aspettare delle evoluzioni e le conferme o meno di procedere con questo vaccino che è stato bloccato in Italia, ma è stato bloccato anche nei principali paesi europei. Le vaccinazioni per gli ultraottantenni invece, che utilizzano Pfizer e Moderna, proseguono come da calendario. Perché noi, per quanto riguarda gli over 80, l'area della vulnerabilità sono le due prime priorità e su quelle noi dobbiamo lavorare con Pfizer e Moderna. Quindi tutte le altre cose riguardano AstraZeneca, che a questo punto deve attendere queste decisioni. La decisione di AIFA, come ha spiegato lo stesso Riccardi, fa seguito al sequestro dell'otto 5881 di AstraZeneca, messo in atto dalla procura di Biella, conseguentemente al decesso di un docente a cui era stato inoculato il vaccino. Le giacenze bloccate ammontano in regione a 2.980 dosi, in gran parte in carico all'azienda sanitaria del Friuli occidentale e a quella del Friuli centrale. La quantità complessiva di dosi dell'otto posto sotto sequestro, consegnate originariamente alla regione, corrisponde a 10.100 dosi, di cui 3.600 consegnate ad Asugi. Mi attengo a quelle che sono a disposizione delle autorità italiane. Aspettiamo di capire l'esito e le ragioni di tutto quello che avverrà nelle prossime ore e in quel momento saremo in grado di dare delle risposte precise.